Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su Linforia Universo e benvenuti per un nuovo astrocaffè da passare insieme. Questa mattina ci occupiamo di nuovo di una questione morale, ispirandoci a una situazione di fantascienza in questo caso, e vedendo come in realtà delle situazioni che potrebbero davvero capitare nell'esposizione spaziale ci pongono davanti a questioni morali molto importanti. E ci occuperemo in particolare del caso dell'astonauta immaginario, Mark Watney, all'interno della storia di The Martian, e se non l'avete mai sentita nominare o altro è una bella storia, specialmente il libro, ve lo straconsiglio, in cui un astronauta rimane bloccato su Marte. E la questione morale che si pone è dovremmo salvarlo o no? Sembra una cosa facile all'apparenza, ma vedremo oggi come possiamo prendere questa questione e complicarla tantissimo e cosa ci può dire di noi come umani. Allora, visto che dobbiamo complicare le cose per cercare di non perderci tramite i dibattiti, ho diviso tutto quanto in tre principali questioni. La prima riguarda se lasciarlo morire perché il costo è troppo alto. Sembra facile all'apparenza la risposta, perché ovviamente che fai? Lascia una persona morire solo perché il costo del recupero è alto? Che figura ci fai? Vi immaginate il comunicato della NASA in cui dicono beh, vorremmo salvare tanto l'astonauta rimasta su Marte, ma sai com'è? Il budget è quello che è. Quindi, eh vabbè, ciao Mark. No, sarebbe veramente poco realistico, anche perché immaginate il danno di immagine per l'agenzia. Però, quello che è facile all'apparenza, si complica quando considerate che questa è una cosa che succede di continuo qui sulla Terra. Perché per solo il costo della stazione spaziale internazionale, che non è particolarmente grande per un budget globale, anzi è minuscolo, manovre finanziarie vengono fatte di triliardi di dollari, cioè migliaia di miliardi di dollari, senza nessun problema, e in questo caso per solo il prezzo della stazione spaziale di circa 120 miliardi, potresti eliminare completamente per sempre dalla faccia della Terra la malaria. Non è facile, perché per 120 miliardi niente più malaria, una persona su Marte, e magari la missione comunque ti costa nell'ordine di miliardi, e devi dire a tutte quelle persone che muoiono di malaria, ehi, se solo foste su Marte, ah, qui in quel caso avremmo potuto salvare, ma dato che è morito sulla Terra, allora, niente, morite e basta. Quindi, cosa dovremmo fare in questo caso? Il costo è molto alto, quei soldi che potrebbero essere impiegati per salvare le persone qui, dovrebbero essere impiegati per salvare una persona su Marte, e dall'altra parte cosa fai? Lasci una persona a morire che è mandato lì durante una missione spaziale, perché qualcosa è andato storto, diventa difficile, perché ovviamente la questione che si pone dopo, se dici, sì, non dovremmo usarli, allora dovremmo usarli per la malaria. La questione che si pone subito dopo è, allora non dovremmo proprio fare le missioni su Marte, allora non dovresti proprio fare niente prima di salvare le vite degli altri. Ed è sempre quello il dibattito, se vale la pena fare queste cose, magari, per esempio, potresti argomentare dicendo, ehi, le missioni su Marte hanno degli aspetti positivi, perché ci danno molte tecnologie che servono per salvare le vite qui sulla Terra, e magari cose che scopriamo durante missioni spaziali possono aiutarci a migliorare la vita di miliardi di persone qui sulla Terra. Quindi, per esempio, pensate al vantaggio che hanno avuto medicinali scoperte grazie a missioni spaziali, ma anche tecnologie nuove, ma anche internet, e il vantaggio che ha avuto a livello globale, nato grazie a, tra le altre cose, anche le spazioni spaziali. Questa è la prima questione. La seconda è, cosa succede se decidiamo di andare, ma dovremmo mettere a rischio l'equipaggio? E questo è quello che viene presentato all'interno del film. Se noi lanciamo gli astronauti che stavano tornando verso la Terra, e devono tornare verso Marte, e rischiano la loro vita, vale la pena? Il dibattito è sempre quello, se la vita di tanti vale la vita di uno, e qual è la scala con cui decidiamo il valore della vita in generale. Come facciamo a decidere qual è il valore della vita di Mark Watney, poverino, rimasto su Marte? Vale sacrificare, poter comunque repentaglio un'intera missione di tutti gli altri astronauti? Allo stesso tempo, è difficile dire ai loro, ai suoi compagni, non tornate a casa perché voi siete di più. E quindi, niente, se lui è rimasto bloccato, che sfiga, fine. Perché, al contrario, cosa succede? Se fossero rimasti quattro bloccati su Marte, e muoiono, se non torna con nessuno a salvarli, e c'è uno rimasto fuori nella navicella, allora lui è obbligato moralmente a scendere per salvarli, perché lui è uno, e gli altri sono quattro. Il fatto è che gli umani non sono delle macchine, da questo punto di vista, non ragionano solo per numeri. Il valore che diamo alle vite umane non sono soltanto per il vantaggio che rappresentano, quindi non è così facile. L'ispirazione, pensate a questo, quanto sarebbe di ispirazione per le generazioni future vedere una missione in cui davanti a pericolo, davanti a rischi, gli umani si impegnano per un bene maggiore. Questa cosa è una cosa che abbiamo trovato di ispirazione da sempre, dai tempi delle leggende antiche. Per cui, cosa fa in questo caso? Vale la pena mandare una missione e rischiare la vita di tanti, non solo per la sua vita, ma per quello che significa quello. Quindi è una questione di simbolo, è una questione di, quello che tu fai non è salvare una persona, ma è difendere, diciamo, un ideale, se vuoi. Creare una leggenda. La terza questione è un po' più pratica. Chi è che deve aiutare? Ora, nel libro e nel film viene esplorato un caso particolare in cui uno dei tentativi per andare a salvarlo, con un razzo, perché deve mandare delle risorse, fallisce. C'è pochissimo tempo per lanciare un altro e non ci sono molte altre nazioni che hanno la possibilità di farlo. In questo caso la Cina si propone per poterlo fare, ovviamente in cambio di un vantaggio strategico e quindi in questo caso astronauti propri nelle proprie missioni, nelle future missioni su Marte, visto che da soli non erano andati su Marte, ma in questo caso possono accedere a un programma internazionale da cui prima erano esclusi. La stessa questione si pone però, è simile alla prima, però in questo caso è sia, per esempio la NASA dice no, per noi non abbiamo soldi, quindi non vogliamo andare a salvarlo. Magari le altre nazioni decidono che vale la pena andare a salvarlo e quindi europei, cinesi e africani si mettono insieme, mettono i soldi e vanno a salvare Mark Watney su Marte. Che figura fanno gli Stati Uniti se una missione cinese va a salvarlo, mentre gli americani non volevano. A parte che il pubblico, comunque come dicevo, viverebbe malissimo questa cosa, quindi difficilmente abbandonerebbero qualcuno di vivo su Marte quando c'è anche la minima possibilità pratica di salvarlo. Quindi, la questione dei soldi però riguarda anche la condivisione delle risorse, quindi in questo caso lui è un umano, un essere umano, e quindi ci riguarda tutti da vicino e dovremmo tutti lavorare per un'emergenza maggiore, oppure è un americano, e in quel caso se ne deve occupare l'America. Sembra una questione di apparenza, ma pensate a questo, vi ricordate quando c'era il team di football, credo fosse di calcio, sì, rimasto intrappolato in Tallandia in una caverna, e sono arrivati aiuti da tutto il mondo. Durante l'emergenza questa cosa succede di continuo. Tutto il mondo si sente legato e coinvolto a queste cose e cercano tutti di dare una mano. Quindi, a quel punto, chi è che moralmente dovrebbe impegnarsi? Dovrebbe essere una missione condivisa tra tutti gli umani o se ne dovrebbe occupare solo la nazione che l'ha lanciato lì, o della nazione di cui è? Un conto è se poi dopo è della NASA, un altro è magari sede di un'agenzia più piccola. Quindi, se per esempio con l'astronauta... L'astronauta che rimane lì è della NASA, ma nella storia ci sono astronauti di varie nazioni. Se fosse rimasto l'astronauta tedesco, che c'è nella storia, a quel punto che fa la Germania, deve gestire la missione, gli europei, tutti gli europei da mettere d'accordo, sarebbe stato un incubo. Vedete, queste sono le tre questioni morali principali che vi voglio esporre. Poi dopo, ditemi sotto nei commenti come le risolvereste, qual è la vostra idea per ognuno di loro, secondo voi cosa ti mostra di interessante riguardo a noi come umani. Cioè, al di là di Mark Watney, però ci sono delle questioni molto importanti, come qual è il valore della vita, come decidiamo quale vita vale di più, come gestiremo le questioni riguardo alla morte qui sul nostro pianeta, riguardo al potere fare qualcosa, possiamo nella pratica salvare delle vite, ma decidiamo di non farlo perché diamo la priorità ad altro. E come si decide questo? E come si condivide la scelta? La responsabilità per le cose che facciamo come umani e di una singola nazione è possibile dividere le responsabilità? Sembra una cosa scollegata, ma il cambiamento climatico, per esempio, che riguarda di preciso? Se hai una nazione che inquina, quel gas non finisce improvvisamente al confine. Non è che il riscaldamento globale poi dopo è isolato per singole nazioni, è una cosa planetaria. Quindi, alla fine, è una responsabilità planetaria. Queste questioni sono importanti per in generale noi come umani e come viviamo. Ora, fatemi sapere quindi sotto cosa ne pensate. Vi abbraccio fortissimo. Come sempre, continuate ad essere meravigliosi. Un saluto da me, da Tancredi, dal Signor Pianta, e presto ci vedremo con un altro video, un'altra questione morale. Ciao! Ciao a tutti! Eccoci arrivati in una puntata sorpresa di Book Club. Ah ah! Pensavate di sfuggire invece? Sono, ora verranno fuori le puntate riguardo ai libri. Così, a sorpresa, mentre non ve le aspettate. Vabbè, è una battuta. È stato per chi non le conosce. Un tempo su questo canale c'era una rubrica dedicata ai libri che guardavo io. Triste mangiando cereali. Niente, ho parlato comunque del libro di Andy Wilder e del perché mi piace così tanto e di quanto è affidabile. Se non lo conoscete, conoscevatelo. Lo straconsiglio. Molto meglio, tra l'altro, del film. Il film mi piace molto. Vai, il libro... Comunque vi lascio sotto il film. Sì, la recensione che avevo fatto del libro. Ecco cosa volevo dirvi. C'è un'altra questione morale che viene posta qui dentro. Non riguarda queste, ma è una piccola questione morale di cui voglio parlarvi però riguardo ai shuttle. se sanno che l'equipaggio potrebbe... o uno dei compagni potrebbe morire. Cioè, quando appena scoprono di Mark Watney che è vivo, sanno che se lo dicono agli altri compagni decideranno subito di tornare a salvarlo. Però il rischio per la loro vita è molto alto. Quindi il dibattito interno alla NASA è dovremmo dirlo all'equipaggio o no? Quindi la questione di nascondere delle informazioni all'equipaggio è avvenuta anche nel mondo reale con equipaggi di shuttle che erano a rischio di un'esplosione del shuttle. La NASA lo sapeva e non ha detto niente agli astronauti. E poi è finita male. Quindi è un po' una questione aperta su come dovrebbero essere gestite queste informazioni. Quindi nel caso in cui sai che la navicella degli astronauti è a rischio, glielo dici? Non glielo dici? Nel libro viene un po' esplorato e magari ne parliamo la prossima volta. Come sempre, ciao!